e come vuole quello è che parti dal molle cazzo cazzo è caduta fermo bisogna dirgliela provare attaccato peggio così è un po' meglio guarda che molle sotto eh molle si bisogna fargli dare una schiacciata e molle se si va dentro davanti è un po' mai si va Grazie a tutti. Allora che arrivano i bambini è diventato adatto così. Esatto. E l'ho scavato un po' eh. Bravo. Quello che io volevo. Così. E l'ho scavato un po' eh. Troppo alto qua. Eh? Ti ho fermato che faccio una foto. Ah fa? Tanto... Vabbè.